allora nuovo video ciao a tutti si mi sono fatto un po la barba perché sembravo l'attore lì del come si chiama del gladiatore solo che io mi sento un pochettino più sul Brad Pitt e allora ho detto boh mi faccio la barba allora veniamo a noi nuovo quadro due preparati quadri preparato quadro con la tela con legno che ho fatto nell'altro video come si montano le cornici adesso fondo e poi lasciamo tutto asciugare per fare aloe ad olio per finire ad olio e fare proprio il soggetto del quadro che saranno due NFT come ormai mi sto dedicando sono colorati sono allegri uno dirà ma poi cosa ne fai di questi quadri beh io li metto in vendita li vendi e che ne so io non lo so vedremo nel frattempo mi diverto a farli che la cosa più importante comunque si parte via vi lascio guardare il video e poi metterò una musichetta come di solito parto col bianco dei colori in acrilico e vado con la spatola con la spatola è anche un po più grande della spatola voi vi chiederete come mai con la spatola e come mai il quadro è mio e io lo faccio con la spatola no diciamo che lo faccio solo perché si fa più veloce e rimangono delle spatolate che 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 mi piacciono molto ale si parte ciao Sì 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 Grazie per la visione!